Meglio del previsto sia dal punto di vista della qualità che della quantità. Dopo le ultime gelate sembrava persa la stagione della percoca, prodotto tipico dell'agro di Canosa di Puglia, la borgata di Loconia. Il frutto si è ripreso in corsa, le primizie maturate un po' in ritardo, le tardive già arrivate. Le varietà un po' più tardive si sono accavallate con quelle primizie che portavano una settimana 10 giorni di ritardo e lì diciamo c'è stato un po' di blocco di mercato perché chiaramente quando il prodotto è più di quello che si consuma eravamo un po' impreparati, devo dire il vero, perché altrimenti avremmo iniziato un po' prima l'industria e non avremmo avuto nessun blocco. Però tutto sommato abbiamo superato anche quello. Da poco nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, enorme la superficie coltivata, oltre 600 ettari, il 70% della produzione è destinato alla trasformazione, il resto al mercato del fresco e della grande distribuzione. Questi i prezzi. Per via della gelata molti produttori sono stati colpiti da questo e quindi ovviamente se manca il prodotto, il prezzo di quel prodotto aumenta. Diciamo per l'industria all'incirca 60 centesimi. Niente sagra quest'anno causa emergenza sanitaria. I produttori non vogliono però rinunciare alla valorizzazione del frutto. Nelle manifestazioni cittadine che verranno, le percoche ci saranno sempre. Il binomio ottimale è quello di abbinare alla percoca tutti i prodotti enogastronomici dal posto unitamente all'archeologia che è il fulcro della città.